rieccoci in questo nuovo world true ave gameplay quello che è infatti un dolce ben meritato aspetta non abbiamo fatto un fico setto il lattagio prendi il lattagio io prendo my granite versione normale era da queste parti il lattagio vero? destra sinistra 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 eccolo sexy ma cosa? I'm the locker com'è in inglese the milker? no dai com'è non ne ho idea the walk milk quello che trasporta no è tutto trasportare è the bring milk birra come si fa ad ubriacare con la birra lego? amm amm ahm quattro addolo questo il doppiano asfo tan 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 non ha la magia è ovvio te l'ho detto ma io ti avevo detto che l'avresti usato per due minuti ma va la molto meno chi sono io a parte che tu sei uguale a te stesso dai chi sono io? un gatto c'è un gatto di merda no sono la preside no non era la preside però era vicepreside dicevo vieni un attimo qua da me ti prego devo farlo ritorna a coso quello che eri prima ecco tatarata tatarata oddio guarda che faccio quando cammina madonna sono rimasto incastrato lì ah vado a che davro e aspetta cosa c'è qua c'è l'ennesima birra è bellissimo giocare con tre giocatori uguali eh ho mancato un po' il tavolo eh tipo di nuovo ho sbloccato cormac oh mio dio ok ritorniamo a quelli che eravamo il frate grassi e io con quella cosa lì cosa ci faccio questa sedia? colpiscina hai ragione guarda chi sono una roba orribile ron è molto biancheria intima mi la taglio e cosa bisogna fare qua? ah no ah no che idioti non serve la sedia sono le tre birre ah giusto ah qua c'è magia oscura eh Voldemort non ha la magia oscura abbiamo scongelato questo ah è Ermione falo te dice che qualcosa era in alto si infatti diventa Ermione vediamo magari c'è elicottero vivo il lattaio no ancora meglio era in alto ah ho capito l'altra cosa come si fa esatto madame rosmerta merta ho detto merta 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 con la t che nessuno capisca altro terza birra siiii oh oh dov'era? lì dietro lo scapuzzino lì è giù ah ok ok adesso cosa c'è da dare a Omarello? la birra su meno quella no no oh ma lui ci stai facendo mal di testa questo di sicuro ma lui ma lui ma lui ora se ti avvicini a me scoprirai che ho una papera bene vieni 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 altizia nel quadro ci sta facendo al bagno e lui in compenso ci darà una birra no da un rubinetto ecco la birra cosa fai nossa oh oh wow oh Ah! Ah! Ahahahah! Ahahahah! Ahah! 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 Non so come dirlo, però non c'è un compagno. Ahahah! Nien! Ma! Puff! 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 Fuuu! Ah- Puff-puff! dobbiamo pulire il tavolo se lo distrugge il tavolo ti vale a pulire eh non si può distruggere piccola cosa guarda 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 wow si vuole si suonare guardi mio non ci credo questo cosa qua no? si è mosso? ora non c'è più io mi sono messo qua e mi ha schiacciato comunque faccio vedere la replay guarda quanti piatti ci stanno in questa lavandina piccola assolutamente perchè in questo momento mi è venuta in mente la cantina Ben non lo so, veniva in mente i meritori la pista la cosa c'è la cantina Ben per chi mi ha detto la canzone oddio mi aveva dato tutto tutto tra di uno stemmo è vero che c'è ancora la terza parte meno da me lo che non ho guardato se sono altre città e oltre è vero che cosa è vero che è vero che è vero che è vero che ho lo stesso doppiatore di quello di cormac no? è lo stesso doppiatore di gilderoy al lock in anion 4 fantasma, va bene, ok ti sei fatto fare delle foto da una foto fotografica, grazie picchierò questa torta finché non esce ciò che voglio oppure non è la torta ed è una cosa qua fuori dato che sei Hermione vai a fare il coso di Hermione qua devi far tutto te no, che vuoi diventare ah e tu fai quello lì a destra e io faccio il coso di Hermione a sinistra ah 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 Sì, vediamo. Sì, vediamo. Ah, studente pericolo. Ah, vediamo. Yes, devo portare questo video. Ti sei liberata, siamo tra Ermione adesso, lo sai? Non può usare gli occhiali, fate gaspoo. Sì, vediamo. Scusa, non farlo, non farlo. Sono avanti con il nuovo. A cosa mi servono stessi schiali? Ah, quello che ho appena fatto. Ci sono dei oggetti invisibili. Ah, è rinatale. Ah, come se mi servisse. Dovremmo aver fatto tutto. E poi pur far quello che volevi fare. Ho tutto voglio fare. Scusa. 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 Povero Nevi il cameriere. Un personaggio che... Si può usare. Ah, sono questo. Ma perché sempre con l'automamenti? Perché è riduamente figo. Vai indietro, vai indietro, vai indietro. A destra. c'è un coso lì attacco la destra tieni premuto bene i i i i i i i Io abbiamo complottato lo stemma. Ed è uno. Un che coi mi ha chiamato con una gamba rosmella. Un carri natalizzi. Natale, non natalizzi. Stai attento a sta gamba. E ferma la mia gamba. Lo so, ma perché te la sto tenendo io. Se te la lasciassi penderebbe e si farebbe contro la videocamera. Ok. Eh no, quindi niente, non voglio star qua a te ne ho chiamato la tua gamba. Oppure ti siedi normalmente. Cioè praticamente è in versione orizzontale questo qua. Ci vediamo al prossimo... Se non è sto comodo. Sì, com'è comodo. Ci vediamo al prossimo gameplay.